Con questo poema ci troviamo di fronte all'apoteosi mistica della produzione musicale di Scriabin, uno degli ultimi brani, sicuramente quello più visionario, infatti c'è una ripetizione continua dell'accordo mistico e una serie di tritoni che lo rendono così inquieto, instabile. Per Scriabin la sinestesia era importantissima, quindi la ricerca non tanto di quello che si può udire, ma in realtà quello che si può vedere, quindi tutte indicazioni dall'oscurissimo al più luminoso, al brillante, è una rincorsa verso una fiamma, un fuoco, una luce pura. Ho scelto di accostare questa musica alla pietra del fuoco, quindi al basalto, e alle meravigliose sculture di Pinuccio Sciola, che appunto derivano dal fuoco stesso e forse è proprio fuoco solidificato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.